Vittoria importante del San Mauro Marchesato nei confronti della città di Ciro Marina. Un 3-1 finale che ha consentito alla squadra di casa di allontanarsi dalle zone calde della classifica per mantenere una posizione di centro classifica che probabilmente renderà più facile e più agevole questo finale di torneo di prima categoria girone B. Le reti di Giuda e Palermo consentono ai padroni di casa di passare sul 2-0 poi accorcia le distanze affattato per il città di Ciro Marina ma conclude nella seconda parte della gara verso il finale Crugliano per il San Mauro Marchesato per il 3-1 definitivo. Una partita che poteva non avere alcun significato per la classifica però è importante mantenere questi 5 punti di vantaggio sulla zona calda proprio della classifica. Sono diventate 7 adesso nei confronti di un Chiara Valle che è quintultimo e da 20 punti. Per il città di Ciro Marina ormai sfumata la possibilità di inserirsi nelle zone alte dei playoff resta un campionato abbastanza tranquillo e sereno per questo finale di stagione. Grazie.